Quando prenoti il tuo viaggio, affidati a Blue Coral Vacanze. Entra nel colorato mondo Blue Coral Vacanze. Crea con noi la tua vacanza ideale. Blue Coral Vacanze, in corso Vittorio Emanuele 160-162 a Sciacca. Nuovo intervento di bonifica questa mattina nell'area portuale di Sciacca, in particolare nella zona della Rocca Regina. Più volte i volontari di Sciacca Pulita e di altri gruppi sono intervenuti nel passato, ma continua la pessima abitudine di abbandonare in questa zona rifiuti. Vediamo cassette di polissirolo che quindi portano chiaramente all'attività di pesca e da chi le ha abbandonate, ma vediamo rifiuti di ogni genere, bottiglie anche sanitari. L'iniziativa è stata promossa da un gruppo di volontari coordinato da Vito Becchina, che ascoltiamo. Cosa state trovando? Stiamo trovando di tutto, prevalentemente sacchetti, plastica, bottiglie, lattine, cassette di polistirolo, abbiamo trovato una bilancia, una griglia, un po' di tutto. Com'è nata questa idea e come avete deciso di concentrarvi proprio in questa zona? Allora l'idea è nata da una semplice ghiacchierata, ci siamo subito trovati in sintonia e abbiamo subito capito che era il momento di dare un segnale e iniziare a fare qualcosa realmente di concreto per la nostra città. Speriamo di sensibilizzare un po' tutta la città, a tenere la città nostra pulita, perché ne va del bene di tutti. Sei un operatore del settore turistico. Ecco, la gente quando sceglie e sciacca come vacanza immagina che ci siano posti come questo, tanto belli quanto purtroppo degradati, diciamo, da questo punto di vista. Questo è una nostra grossissima pecca. Noi abbiamo a che fare durante il periodo estivo con tante persone, tanti forestieri e tutti ci dicono la stessa cosa. Avete una città meravigliosa, però non la sapete sfruttare ed è in condizioni pessime, sporca. È la lamentela che riceviamo sempre e di cui ci vergogniamo onestamente. Però diciamo, ecco, volendo dare anche una notizia positiva, che il fatto che lei è riuscita a coinvolgere tante persone che altre ce ne sono state nel passato, che si sono adoperate per la bonifica e per ritirare questi rifiuti, indica che è sempre una minoranza quella che è sporca. Eh sì, sì. Questo è un grande segnale. Io mi accorgo anche tramite mio figlio che i bambini sono spesso molto più attenti degli adulti e essendo loro le generazioni future forse ci libereremo di questa condanna. Voi continuerete, cioè opererete in altre zone? Oggi stiamo pensando a questa zona perché era quella individuata come più sporca. avevamo pensato anche alla pulizia di qualche spiaggia e altre zone. Ora, a fine giornata magari ne parleremo tutti insieme per capire il da farsi. Rino Maninello, quante volte siete venuti qui a pulire? Questa è la sesta volta, con Sciacca Pulida e anche con altri che hanno un senso civico. Io, ci conosciamo ormai di vecchissima data, è trovare tutto sporco. La scogliere di Rocca Regina che è splendida, ma trovarla piena di rifiuti è una cosa terribile. Io ho avuto modo di parlare con turisti che arrivano a Sciacca e dicono Sciacca è bella, però è molto sporca. Quindi è un discorso che noi dobbiamo fare. Abbiamo mandato un segnale, grazie a Vito, a Gabriella, che si sono messe, alla professoressa Porrello che è scesa pure con noi. Ci sono pure dei ragazzi. L'importante è dare un segnale, ma anche pratico, perché dobbiamo cercare di fare quelle cose che gli altri non fanno. Allora cerchiamo di sensibilizzare la gente. Giuse Porrello, si parla dei bambini che sono più sensibili degli adulti. Lei che è un insegnante, e così anche a scuola loro manifestano questa sensibilità. Sono un insegnante e come insegnante ho sempre portato avanti questi principi. I bambini ci credono e a volte quando li sento parlare, veramente, sembra che veramente il mondo debba cambiare. Ci proviamo, però mi rendo conto che sono veramente queste le attività che potrebbero avere presa sui bambini, perché la teoria è una cosa, la concretezza è un'altra. Non volendo addossare responsabilità per fascia di età, però vediamo delle bottiglie, quindi questo induce a ritenere che possono essere dei giovani. Ma c'è anche dell'altro, le cassette del pesce, certamente non sono abbandonate dai ragazzi. Ecco, perché questo malcostume coinvolge tutti? Ma io sono sicura che se qua ci fossero bambini, questo non ci sarebbe, perché i bambini dalla loro veramente sono consapevoli della gravità del problema. E quando crescono, che poi non riesco a capire perché, questi sani principi sembra che li dimentichino. Si può fare qualcosa da questo punto di vista? Cioè, oltre che la scuola, si può intervenire in altro modo? Ma già quello che sta facendo il dottore Marlenello è già importante, con i social, cercare di sensibilizzare e con la nostra semplice opera possiamo veramente cercare di far arrivare il nostro punto di vista, il nostro pensiero alla comunità saciense che dovrebbe essere consapevole di quello che vale sciacca, di quello che è sciacca e di come la stiamo rovinando. Grazie. Concludiamo con Melania Avola, che è inglese, ma da alcuni mesi ha deciso di vivere a Sciacca, nella via San Paolo, quindi siamo a poca distanza da Rocca Reggina. Perché qui è così sporco? Perché questo è tutto il munizio dei pescatori. Dove metterlo il munizio? La rete? Se non c'è qualcosa per mettere? C'è tanti motivi. Le altre cose, le piccole cose, e la gente non si frega niente, però la maggior parte di questo, rete, scatolo, tutto questo, dove mette? Lei dice che dovrebbero esserci dei contenitori, un servizio, per esempio l'isola ecologica, in questa zona, per poter ricevere subito questi rifiuti. Solo per il pescatore. Solo per il pescatore. E poi deve mettere la telecamera. Deve mettere la telecamera. Quando ho messo la telecamera, la gente non si spogge più. E quando fanno molto, si paga per la telecamera. Un'ultima domanda. Perché siete, diciamo in pochi, vedo una decina di persone che qui oggi avete aderito a questa iniziativa? Io sono ambientalista. Mi piace, non ti piace solo parla, deve fare qualcosa. A nessuno di noi deve fare qualcosa. Per la polizia, per l'ambiente. Lei spera che comunque le cose possano cambiare? Spero di sì. Spero di sì, perché questo è vergogna. O volontario, vieni la polizia, deve polizia del comune. Dov'è quello con il reddito cittadinanza? A Sambuca lavoro, fa cura delle giardine, tante cose. Basta loro vieni. Poche in analizzone. E non è successo tutto questo.